Una strada che non è mai finita, siamo qua ancora per strada, no? Sembra. Quindi siamo qui ad Arezzo dopo 29 anni, quasi 30 anni di carriera. La superstar della lirica Vittorio Grigolo torna nella sua città, Arezzo, per un recital. Sabato 2 marzo alle 19 al Teatro Petrarca sarà protagonista di una serata su aria ed opera nell'ambito della stagione concertistica a Retina. Un lungo programma che si snoderà tra i brani di Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Vincenzo Bellini, Gaetano Doninzetti, Giacomo Puccini e Gioacchino Rossini. Nato ad Arezzo e cresciuto a Roma, Grigolo è tra i più importanti tenori del firmamento operistico contemporaneo con una carriera costellata di successi. Termamente convinto della necessità di divulgare l'opera anche ai giovani, con il suo innato estro è stato Alfredo nella traviata alla stazione centrale di Zurigo e Nemorino nell'Elisir d'Amore all'aeroporto di Malpensa di Milano. Per portare, cercare di sperimentare ma soprattutto di far sì che l'arte del canto lirico, oggi patrimonio unesco, lo ripeto, venga appoggiata, venga fatta riconoscere, venga fruita perché è importante conoscere i giovani che possano ascoltare, ecco non per radio perché ovviamente è difficile sentire un'opera per radio, ma che si dia la possibilità di venire a teatro, ecco gratuitamente, come so che in questa occasione di questo concerto alcune fasce di età hanno il biglietto gratuito.